È stato approvato dall'Aggiunta regionale l'atto aziendale dell'ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, che apre le porte a 200 assunzioni entro l'anno, annunciato nelle scorse settimane dal manager Rinaldo Tordera. L'approvazione di questo importante strumento, ha dichiarato l'assessore regionale della sanità Silvio Palucci, consente di spiegare la nuova programmazione sanitaria. Ora bisogna partire con le assunzioni, fondamentali per migliorare il servizio e dare una risposta al personale sempre più in sofferenza. Il direttore generale potrà rendere conforme l'organizzazione dell'azienda agli standard qualitativi della legislazione nazionale. Il piano di assunzioni prevede l'immissione in organico, anche attraverso la stabilizzazione di oltre 100 operatori, tra infermieri, fisioterapisti, ostetriche, logopetisti, educatori professionali e puericultrici. Saranno inoltre assunti 44 dirigenti medici in 18 diverse specialità. A beneficiare di questo personale saranno in particolare neonatologia, chirurgia, psichiatria e radiodiagnostica. Prenderanno servizio anche altre 39 persone, tra operatori sociosanitari, assistenti e collaboratori amministrativi e assistenti sociali. Grazie.